Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro in una profumeria di Portici oltre 22.800 tra articoli per la cosmesi e mascherine facciali contraffatti e pericolosi per la salute. I finanzieri della compagnia di Portici hanno scoperto che nel retro del negozio erano presenti anche attrezzature per il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti. In particolare sono stati sequestrati per violazioni penali 11.600 articoli contraffatti tra cosmetici e mascherine facciali del calcio Napoli e di vari personaggi Disney, etichette adesive a Swarovski nonché 65 litri di diluenti, additivi e prodotti industriali per la cosmetica. Inoltre sequestri amministrativi anche per 11.260 articoli tra mascherine facciali, guanti lattice e prodotti di bellezza messi in commercio privi di etichettatura in lingua italiana e quindi delle informazioni per il consumatore. Il titolare, un 36enne di Cercola, è stato denunciato per ricettazione e contraffazione, oltre che segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo.